allora un'altra questione che voglio comunque domandarle la tav lo so che non è di sua competenza però lei è una vision europea la visione europea adesso si occupa poi anche di imprenditoria con questa manifestazione andrebbe in ogni caso ad essere un percorso che attraversa il nostro paese in modo significativo secondo lei da non addetto ai lavori però da persona che le cose le capisce le conosce bene come la va a interpretare in senso positivo opportunità di crescita per il nostro territorio oppure un grande rischio una grande spesa e quindi un buco nell'acqua e perché la stessa domanda gliela farò per le per le olimpiadi quindi vedremo che riguardano più il suo territorio ma anche qua no noi dobbiamo sempre pensare che non siamo nati oggi e che dietro non ci sia niente vi ricorderete che si diceva sempre o si dice anche tutte le strade portano a roma perché perché roma fu un impero grazie ad una serie diciamo di infrastrutture potenti che vennero costruite e che erano soprattutto infrastrutture che trasportavano merci e persone ma guardiamo la via della seta ma guardiamo anche la stessa venezia che aveva creato le auto praticamente le prime autostrade del mare vennero create dalle navi veneziane che portavano le merci dopo che questi poveri commercianti no arrivavano ai confini del mediterraneo molti morivano per strada mesi e mesi e finalmente arrivavano dove c'erano navi moderne protette da navi da guerra e lì non rischiavano neanche la vita mettevano le merci la e quelle arrivavano poi nell'europa nostra le strade hanno sempre creato sviluppo hanno creato economia nella storia quindi quando uno è fuori da un circuito è rovinato io mi ricordo quando vado a fare noi giri per le piste ciclabili eccezionali del nord europa ma certo sono troppo belle anche poi ricordiamo sempre venezia monaco che passa per longarone no quindi longarone che è il centro di un passaggio anche su questo stiamo lavorando importante sì la fiera del turismo si occuperà anche di questo perché noi vogliamo promuovere il nostro territorio quindi non solo longarone ma anche la pista ciclabile venezia monaco ebbene mi ricordo che c'erano ristoranti o pensioncine che erano escluse dal passaggio della via ciclabile che spostavano i cartelli mettendoci a noi in difficoltà perché ci facevano uscire fuori dalla strada principale ci disperdavamo in altre zone perdavamo un po' la bussola come si usa dire perché ma questo cosa indica che i trasporti le strade ferrovie quindi le autostrade portano sviluppo punto ora il tema è quello non tanto di non farle queste queste questi corridoi chiamiamoli corridoi che possono essere corridoi pan europeo come vengono chiamati perché collegano stati diversi paesi diversi devono essere fatti perché se no noi rimaniamo indietro rispetto al resto del mondo che poi dopo si debba discutere se bisogna farli con una tecnologia piuttosto che con l'altra ma mi va bene ma certo è giusto approfondire guai che costino 4 5 volte le nostre infrastrutture che altrove su territori analoghi come in austria che costano molto di meno vediamo come farle ma si devono fare perché se no anche lì c'è povertà le olimpiadi si devono fare ormai siamo arrivati in giugno la decisione finale io dico che sarà difficile dire di no ad un territorio splendido come il nostro ma anche quello che ci sono senti sentiment sì chi è favorevole e chi invece ha un terrore perché dice per alcuni paesi è stato un boomerang pazzesco e gli hanno ridotti abbiamo visto dove ci sono state soprattutto in grecia no in altre realtà si però hanno provocato dei problemi di un poco conto secondo lei anche dal punto di vista geomorfologico rischio geologico tutto quel che comporta quel territorio delicatissimo un ecosistema è in grado di reggere le olimpiadi invernali per fortuna c'è la divisione con milano per cui ci balcambiamo cosa ne pensi ma adesso che lo conosce bene noi non dobbiamo fare un paragone con aree troppo diverse da noi noi abbiamo un territorio che ha avuto grandi benefici dalle olimpiadi famose del 56 quindi è difficile dire che quelle olimpiadi abbiano portato disastro sul territorio perché hanno fatto diventare cortina quello che è diventato la perla delle dolomiti non bisogna mai esagerare come in tutte le cose però noi partiamo da un territorio che già in grado offre già tutta una serie di infrastrutture se però è ovvio che bisogna modernare alcuni impianti di sci piuttosto che fare due tre impianti nuovi che rispettino l'ambiente una galleria nuova che quindi per definizione rispetta l'ambiente e se bisogna modernare fare meno curve di una strada e quindi si evitano degli incidenti o dei fatti che delle zone sono attualmente un po' isolate questo non fa altro che portare un beneficio quindi noi stiamo parlando di un territorio che ha già delle infrastrutture che devono solo essere migliorate quindi io non vedo che ci sia da temere ecco l'importante sempre in medio stat virtus che non succeda come il caso di venezia che non può succedere per fortuna in un territorio così esteso venezia è diventata preda di un turismo un turismo distruttivo che ha fatto sì che residenti se ne siano andati via abbiamo perso due terzi della popolazione ecco lì è sbagliato questo fenomeno come è stato gestito tuttora oggi con continui milioni di metri cubi e stanze e stanze di hotel che vengono messe sul mercato ma nell'area enorme di tutte le dolomiti un investimento nell'ambito turistico in questo momento è positivo anche perché il turismo ahimè se non arriva l'autonomia il turismo è uno dei pochi settori che continueranno a crescere perché questo lo dicono tutti i dati statistici settore della cura delle persone e settore del turismo quindi se non arriva l'autonomia per evitare la povertà più totale e noi dobbiamo avere un settore che resiste alla crisi come quello turistico e di bisogna rafforzarlo e bisogna rafforzarlo però con tranquillità non seguendo l'esempio di venezia o di altre città del mondo ecco non lasciamoci a venezia per un altro capitolo lo faremo un'altra volta vediamo un po tornando a longarone quali sono longarone fiere però quali sono i prossimi step che voi vi preparate ad affrontare oltre a questo weekend lo ricordiamo ancora l'ultima opportunità per agrimont aperta al pubblico e la festa del gelato dai perché lo ricordiamo per le famiglie fine settimana in occasione della domenica il 24 che si celebra la gelata europea del gelato che è stata indetta proprio a longarone tra l'altro è domenica proprio la festa del gelato mi raccomando e poi venerdì sabato e domenica si mangia gelato viene offerto a tutti coloro che arriveranno il gelato appunto fatto dai nostri bravissimi gelatieri beh abbiamo detto dell'arte della cultura che noi vogliamo rafforzare abbiamo detto il consiglio di amministrazione ma anche la grande collaborazione con tutte le autorità del posto con i sindaci del bellunese con il presidente padrina che anche venuto in questa trasmissione presidente della provincia l'admo di belluno e tutte le altre entità stiamo aiutandoci per fare la fiera delle foreste 14 15 di settembre la nuova fiera del turismo collegata con dolomiti show che sarà nella fine settimana del 4 5 di ottobre poi ci saranno le altre fiere classiche nuova fiera del turismo perché ad oggi non è mai stata fatta una vera fiera del turismo di montagna qui c'è l'elenco di tutte le fiere vedete la fiera delle foreste che è stata indicata già dolomiti show che sarebbe la fiera del turismo che noi rafforzeremo in collaborazione con chi si sta oggi occupando di dolomiti show è tutto un lavoro di rete noi lavoriamo con le associazioni di categoria con tutte le entità pubbliche del territorio stiamo cercando di dare un valore aggiunto a tante di quelle opportunità che il bellunese offre che le nostre dolomiti offrono e quindi il turismo è un modo anche per far conoscere tutta questa realtà infatti noi vorremmo anche che ci fosse una forte attività della film commission della regione veneto dedicata al settore delle montagne perché abbiamo visto che fare i film in montagna poi attira ai siti come dappertutto tutte le location che vengono utilizzate per i film e film sono molto molto importanti no quindi questo noi contiamo molto anche in una collaborazione a livello nazionale in particolar modo col ministero dell'agricoltura col sottosegretario manzato che è venuto già a due inaugurazioni che ci sta aiutando e speriamo di poter concludere una collaborazione a livello nazionale proprio per la fiera delle foreste perché il tema foreste il tema agricoltura il tema di evitare lo spopolamento di montagne e anche campagne ma soprattutto montagne due terzi del territorio italiano sono coperti da e coperto da montagne è un tema che riguarda non solamente noi ma riguarda tutto il paese e quindi un tema che noi avremo l'ambizione di affrontare a livello nazionale ma nella piccola longarone vicino alle nostre dolomiti no questo sarà molto molto importante e tra l'altro ci sono delle figure specialistiche professionali che sono cresciute sono formate solo ed esclusivamente a longarone che sono specializzate un po in tutto il mondo relativamente al discorso arrampicata attrezzature ad alta quota eccetera assolutamente anche quello ma poi anche guardiamo altri settori produttivi gli occhiali a parte poi gelato voglio dire il settore dell'occhialeria che è un settore è un settore grandissimo all'avanguardia ma nel settore delle attrezzature sportive in certi settori degli studi geologici degli studi della natura ci sono tantissime attività che sono poco conosciute una per esempio anche poco conosciuta è quella della rete dei musei del bellunese no la rete dei musei esiste una rete di musei del bellunese che è stupenda l'unico problema è che bisogna organizzare in maniera tale di poter organizzare che siano sempre aperti questi musei per poterli farli visitare ma ci sono cose a parte per esempio che sul museo del chiodo interessantissimo che c'è a zolto mi viene in mente ripeto il museo degli zattieri che sta bellissimo proprio per le famiglie anche per far vedere pezzi della nostra storia della nostra cultura come funzionava il trasporto una volta del legno verso valle verso la laguna di venezia ma ci sono tantissimi altri settori produttivi dove siamo all'avanguardia tutto il veneto si è sempre distinto per essere all'avanguardia di tanti settori produttivi ma ce ne sono alcuni specifici proprio della della montagna e questi devono essere messi in evidenza e questo anche un nostro ruolo e lei diceva prima il fatto che comunque sia su venezia è stata la fuga dei residenti anche nella montagna ha sofferto questo e anche da parte dei giovani però forse perché non ci sono opportunità occupazionali ma certo ma è quello che dicevo poco fa quando tu non hai una diciamo un bilanciamento delle diverse condizioni di gestione di un'impresa se costa troppo gestire un'impresa nel bellunese e costa di meno del bolzanino piuttosto che nel trentino è ovvio che vanno di là perché ci sono delle condizioni anche fiscali diverse ma questo non è corretto allora bisogna dare la possibilità anche al territorio di montagna del bellunese di avere delle esenzioni fiscali o dei contributi pubblici che parifichino che mettono in equilibrio queste condizioni di concorrenza e per questo anche la fiera del turismo perché vogliamo fare in maniera tale che vengano messi anche in evidenza questi temi ma è un turismo fiera del turismo particolare perché non è la bit di milano la fiera di rimini è diversa anche se dovessimo occuparci di occhiale sarebbe l'occhiale artigianale quindi è una fiera del turismo artigianale artigianale anche quella del turismo è di sport di montes turismo sport e sport di montagna ma forse innesteremo dentro anche la fiera dei misteri per esempio che di cui se ne occupa anche la regione le proloco no le storie delle leggende che va benissimo ambientata che c'è su venezia e invece a livello regionale in montagna non no a livello regionale c'è finanziata anche dalla regione noi vorremmo ospitarne una parte e siamo già che stiamo facendo dei pur parler con la regione per fare questo ma per esempio il turismo vuol dire anche il wellness vuol dire anche la cura dell'estetica vuol dire tantissime cose che ruotano intorno al turismo e che noi vogliamo mettere in evidenza durante questa futura fiera che però verrà fatta in collaborazione anche con tutti gli enti del territorio che hanno già competenza dell'ambito noi non ci vogliamo sostituire vogliamo solo offrire una vetrina e coordinare tante realtà e cercare soprattutto che si capisca che noi avremo fortuna nel turismo del bellunese se sfrutteremo al massimo questo nuovo diciamo appeal che dà il logo delle dolomiti cioè il vero diciamo logo da sfruttare no il nome sono le dolomiti perché sono già molto conosciute nel mondo il principale competitor di longarone fiere qual è perché lei ha portato su adesso verona fiere sì ma verona fiere non è un nostro completo infatti stiamo cercando di collaborare anche perché la regione che giustamente chiede una collaborazione tra le fiere noi collaboriamo con le fiere del piave come anche lì la regione giustamente ci chiede di fare e stiamo cercando questa fiera del turismo di fare l'itinerante anche con loro ma di sviluppare ulteriori collaborazioni anche con loro sì c'è una concorrenza con la fiera di rimini per quanto riguarda il gelato ma noi cercheremo sempre di essere diversi insomma in maniera tale che si evitino stupide concorrenze ma che si cerchi insomma di trovare sempre il modo di offrire un prodotto diciamo particolare come il nostro che è di montagna allora presidente genangelo bellati grazie di essere stato qui con noi a voi grazie di averci seguito 22 24 marzo seconda tranche di agrimont 24 marzo in modo particolare si mangia gelato di montagna artigianale quindi un'ulteriore occasione per andare a longarone a visitare longarone fiere poi dintorni una bella giornata una bella occasione per un weekend grazie ancora buon proseguimento alla prossima grazie a voi grazie